Leonardo Silva Revisore Come state? Non ve lo stiamo chiedendo per educazione e nemmeno per rompere il ghiaccio. Allora, riformuliamo la domanda. Come stiamo? Noi siamo a pezzi, grazie. Sono stati anni un po' duretti, eh? Allora, vediamo quanti si sentono pienamente soddisfatti, realizzati, sereni, perfettamente allineati con la propria vita. Non diciamo solo dal punto di vista professionale, eh? Vai? Senza vergogna? Vediamo invece quanti sentono che non ce la stanno facendo o che il prezzo per farcela sta diventando un po' troppo alto. Benissimo. Noi apparteniamo ovviamente a questa seconda categoria, a questo secondo gruppo. Noi ci conviviamo costantemente con la sensazione di non farcela. E molto spesso è più di una semplice sensazione, è una solida realtà. Ma allora qual è la buona notizia? È che noi eravamo così pure prima. Non è una conseguenza recente. Semmai la nostra condizione adesso si è solo aggravata. Sono anni impegnativi, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista pratico. Abbiamo toccato veramente con mano che cosa significhi essere multitasking. Tu sei a casa, in telelavoro, che stai facendo quelle 800 cose. In quella colla imprescindibile, puntuale come le mestruazioni, arriva la citofonata del corriere. Corriere che peraltro tu adesso attendi come l'ultimo dei Messia. Perché è diventato l'unico momento di vero piacere che ti riservi. Sembra un po' l'inizio di un film porno, eh? Come ti bussa il corriere. Adesso sappiamo che molti di voi hanno già schippato, no? Mentalmente tutta quella parte iniziale, introduttiva, quella che non guarda mai nessuno, no? Per andare alla ciccia del film, ecco. Invece noi vi chiediamo di fare un passo indietro, di ritornare al concetto di multitasking. Riporto testualmente da Wikipedia, che è la facoltà dove ci siamo specializzati tutti nell'Università della Vita. Per multitasking si intende la capacità di un software di eseguire più programmi contemporaneamente, passando da un processo all'altro. Ma cosa succede se un concetto che si riferisce alle macchine lo applichiamo agli esseri umani? Adesso noi vi mostreremo che cosa succede nel cervello di una donna. Un po' perché è ciò che conosciamo meglio, un po' perché culturalmente il concetto di multitasking si riferisce alle donne, mentre invece di un uomo, diciamo, che riesce a fare una sola cosa alla volta, no? Vi sembrerà di sentire un sacco di stereotipi, ma attualmente i dati ci confermano che è proprio così che va, ovvero che il lavoro di cura se lo smazzano ancora le donne. Francesca, ora sarai il mio cervello. È un gran bel pezzo di cervello, grazie, lo so. Ammirate, signori, bella e addirittura intelligente. La senti la fame? È ora di cena? Eh sì, sei tu l'adulta che deve prepararla. Eh, ok, metto su un risottino, risottino. No, non sai cucinare, fai qualcos'altro, non è credibile. È vero, allora metto sull'olio per freggere i sofficini. Ecco, meglio, controlla le mail. Un attimo, adesso guardo, sì, sto guardando. E hai risposto al commercialista, hai mandato quel documento al fornitore? Oddio, commercialista, c'era la scadenza oggi. E guarda che ti ha scritto l'editor, controlla perché è urgente. Eh no, sto leggendo, sto leggendo. Oh, tua figlia ti chiama dal bagno, ho finito di fare la cacca. Amore, arrivo! Citofono e il corriere. È il mio momento. Guarda che hai mandato già quel pacco in giocenza due volte. Aspetta, aspetta, ti prego. Tua figlia continua a chiamarti dal bagno, guarda che se non vai subito, ti ricordi cos'è successo l'ultima volta, vero? Eh, chissò, scorda. Citofono, il corriere se ne va. No, ti prego, aspetta, ti prego. L'olio sta fumando sul fuoco. Peato lui. Telefono, è tua mamma. Ecco, c'è mancava mia madre a sto momento. Ok, senti questo silenzio e tua figlia che è nel bagno ha smesso di chiamarti perché è passata l'azione. No, ti prego. Ti prego, Eva, non toccare niente, stai ferma. Ecco, questa è una nostra giornata tipo. Ora, senza arrivare all'estremo dei graffiti di feci sui muri e degli incendi causati per aver messo a raffreddare una padella di olio bollente sotto l'acqua, che non si fa, vi vogliamo ricordare, siamo d'accordo che con un'iperstimolazione del genere fare le cose male sia inevitabile? Sono pochissime le persone che riescono davvero ad essere multitasking e a portare a compimento con successo ogni singolo task. E tutti gli altri? C'è chi ancora non si è reso e insegue la performance a tutti i costi, con lo stress e la frustrazione che ne consegue, e poi ci siamo noi, noi ci freggiamo di rappresentare l'altra parte, quella di chi non ce la fa. Ma non è che non ce la facciamo e basta, noi lo rivendichiamo con fierezza, siamo un nuovo modello di essere umano, il merdista. Il merdista fa le cose come può e dove arriva mette un punto. Siamo talmente orgogliose di questa nostra filosofia che ne abbiamo tratto un manifesto. Da dove siamo partite? Siamo partite da un blog che si chiama Mamma di Merda, ormai lo sapete, e lo so che cosa vi passa per la mente, quindi sgomberiamo subito la vostra mente dal dubbio. Le nostre figlie sono ancora vive? Sì, pure troppo. Quando diventi madre e hai un impegno di lavoro, di piacere, che esula dalla presenza dei tuoi figli, succede questo, solitamente. Tu sei a farti l'aperitivo, hai un calice di prosecco in una mano, nell'altra una tartina faticosamente strappata dalle mani di un altro al buffet, e mentre stai per morderla, arriva quella tua conoscente che immancabilmente ti chiede. E le tue figlie? Dove le hai lasciate? Ecco, a questo punto puoi rispondere in due modi. Puoi soffocarti subito con la tartina, oppure puoi dare la risposta che negli anni abbiamo affinato come la più performante. Le ho lasciate a casa da sole, davanti alla tv, con 10 euro per la cena, e il numero dei vigili del fuoco a portata di mano. A questo punto la conoscente vi guarda sbigottita, perché quasi quasi vi crede, in fondo sei mamma di merda, ma probabilmente invece, anziché chiamare la polizia, si farà una risata. Ecco, noi è da qui che vogliamo partire. Perché questa domanda ai padri non la fa nessuno? Perché quando c'è un padre errante solitario nella savana, ci si aspetta che a casa, con i figli, ci sia la vera madre devota. La figura della vera madre devota è una gabbia. A imprigionarci è la paura del giudizio. La narrazione dominante sulla maternità prevede che la donna sia completamente immolata per i figli. E noi donne contribuiamo alla mistificazione di questa esperienza. Cioè un po' lo facciamo credere. Come quando pubblichiamo sui social quell'unica foto, venuta bene, in cui siamo sorridenti con il nostro figlio in braccio, omettendo completamente che fino a 5 minuti prima il nostro figlio aveva avuto una crisi isterica perché voleva mettere le dita nella presa e tu gli hai salvato la vita, e 5 minuti dopo la crisi isterica l'hai avuta tu perché hai scoperto che il giorno dopo c'è uno sciopero a scuola e non sai come fare per andare al lavoro, perché a casa, con i tuoi figli, dovresti starci tu. È molto significativo che durante una riunione per un workshop aziendale in cui eravamo state invitati a partecipare come relatrici, una persona abbia chiesto ma come mai si chiamano mamma di merda? Sono madri assenti? Assolutamente no. Noi facciamo ben di peggio. A noi è proprio la presenza che ci frega. Cioè è l'illusione di poter tenere sempre tutto sotto controllo. Vi racconto questo aneddoto. Un giorno dovevo portare la mia figlia maggiore dal dermatologo. Io ho due figlie che chiamo affettosamente le erinni come le personificazioni della vendetta nella mitologia greca. Insomma, sono molto fiera di me perché non ho sbagliato il giorno dell'appuntamento e anche molto stupita perché sono incredibilmente arrivate in orario. In più ho portato, per intrattenere mia figlia nella sala d'attesa, un libro per prevenire le occhiatacce che solitamente le persone mi lanciano quando invece decido di intrattenerla con il cellulare. La sala d'attesa per me è il momento più bello della giornata. Non mi sento neanche in colpa di questo dolce far niente. Non come quando sono sul divano di casa mia che mi guardo una serie tv e ho tutti quei file mentali aperti su quello che non sto facendo. Avete presente quelle finestre nel background del nostro cervello che consumano batteria? Ecco, no, io mi sto rilassando, mi sto rilassando veramente perché in realtà io non mi sto rilassando, io sto aspettando il mio turno che purtroppo arriva velocemente. Entro quindi nello studio del dottore con mia figlia, le scopro la schiena alla ricerca del neosospetto ma niente, il neo è sparito, non si trova. Allora cerco di stemperare con una battuta e dottore sarà un buon segno, no? Lui niente, è impassibile. Insomma, per farvela breve, io sono arrivata il giorno giusto dell'appuntamento, in orario. Ho portato un libro per intrattenere mia figlia, cosa che avrebbe dovuto darmi dei punti carmici, però ho portato la figlia sbagliata. Ma come abbiamo scritto nel nostro manifesto, il merdismo non si riferisce solo alla maternità, ma si può applicare a tutti i campi dell'esistenza. Allora, una ventina di giorni fa è stato il compleanno di mia figlia, unigenita, che tale rimarrà? Perché nella vita, oltre alle ambizioni, serve pure un pezzichetto di umiltà. Cioè, è inutile che sogni la famiglia Bradford se non ce la fai manco con una, ok? Allora, per una serie di sfortunati eventi, mia figlia non ha mai festeggiato un compleanno con tutti i crismi. Quindi io, che sono una mamma di merda, ma sono sempre una mamma, mi voglio veramente impegnare tantissimo affinché lei abbia la festa che desidera in giardino. Ovviamente piove dopo 180 giorni di siccità, ok? Dobbiamo rimandare tutti gli inviti. Ma comunque quel giorno mia figlia deve almeno spegnere le candeline sulla torta. Quindi vado a ordinare questa benedetta torta con l'ultimo unico desiderio che rimane a mia figlia, che sopra ci sia un gatto. Quando la ritiro, il pasticcere mi dice i gatti non mi vengono tanto bene, mi vengono meglio le mucche. E comunque secondo me gli assomiglia un gatto. Ecco, ma come si fa? Come si fa a incazzarsi con uno che ti dice una cosa del genere? Cioè, io non ci riesco. Ma io non posso nemmeno per status, perché costui è il principe dei merdisti. E' uno che dichiara apertamente il proprio limite e che ammette candidamente di non farcela. Ma ciò che fa di lui, non un merdista semplice, ma il sovrano incontrastato di tutti noi, è la soluzione approssimativa che ha trovato. perché se vogliamo dire che le mucche gli vengono bene. Ma comunque io non ce la faccio quel giorno ad arrabbiarmi, perché questo episodio, e ancor più la risposta che ci ha dato, ci ha fatto ridere per tutto il giorno. Cioè ha scatenato un'ilarità tale, addirittura in mia figlia di sette anni, che era la festeggiata, ma che evidentemente, in questo periodo di convivenza con si fatta madre, ha interiorizzato che la perfezione non è contemplata. Che la perfezione non può essere né l'ambizione né il risultato a cui tendere. Che lo scopo del gioco è come stai tu. Adesso è solo un po' confusa tra gatto e mucca, però insomma sui fondamentali ecco ci siamo. Inizialmente pensavamo di essere solo noi due il problema, invece con il passare del tempo la nostra community è cresciuta e ora siamo circa 230.000 merdisti tra i vari social, il 94% dei quali sono donne. Allora ci siamo interrogate e ci siamo dette ma se siamo così tante, siamo noi ad essere inadeguate al metodo o piuttosto il metodo ad essere inadeguato a noi? Con il passare del tempo sono cresciute anche le tematiche che abbiamo affrontato. Durante la pandemia abbiamo deciso di sfruttare la piccola notorietà che avevamo sui social per renderci megafono delle istanze che via via ci venivano sottoposte dalla stessa community. Queste istanze sono poi diventate petizioni, addirittura movimenti di piazza e siamo arrivate ad essere audite da due ministri. E' cambiato qualcosa? Allora, siamo lontanucce dal risultato, ok? E' stato stimato che a livello globale la parità di genere verrà raggiunta nel 2171. Mettetevi comode, ok? Certo non pensavamo di sbrigarla noi così, ma comunque ci sono altri dati da prendere in considerazione molto interessanti. Nell'ultimo anno c'è stato un aumento esponenziale delle dimissioni dal lavoro. Un fenomeno che a livello mondiale è stato chiamato The Great Resignation. I casi di burnout sono in un aumento preoccupante. I giovani si stanno licenziando dal lavoro non tanto alla ricerca di condizioni migliori dal punto di vista economico, ma dal punto di vista del benessere, alla ricerca di un equilibrio sano tra vita privata e vita professionale, cosiddetto work-life balance. Ecco, attualmente si sta parlando di una quinta rivoluzione industriale umanocentrica. A fronte di tutto ciò potrebbe essere questa, applicando il concetto di inclusività alla performatività. Noi diversamente performanti rivendichiamo un metodo a nostra misura, alla faccia del multitasking, che evidentemente non sta funzionando. Il merdismo serve proprio a questo, ad abbassare l'asticella. Forse nella società iperperformante siamo a nostro agio, ma se così non fosse, se ci sentiamo di pedalare su una bicicletta con le ruote quadrate e siamo stufi di provare a spostarla, se sentiamo che non ce la stiamo facendo, fermiamoci e guardiamoci intorno, perché sicuramente non siamo i soli. Soddisfare le aspettative altrui non è farcela e non rende felici. Ascoltiamoci. Come stiamo?